Allora io chiederei cortesemente a tutti di accomodarsi e anche chi sta entrando di accelerare il suo ingresso così diamo inizio ai lavori anche perché contiamo di chiudere entro le 17.30 perché poi a seguire c'è un altro incontro. Intanto benvenuti a tutti a questa quarta edizione di Biennale Democrazia, siamo ospiti in questo nuovo spazio che è uno spazio donato alla città nel cuore della Cavallerizza e colgo così l'occasione subito all'inizio per salutare il progettista di questo spazio che è in sala che è l'architetto Agostino Magnaghi che ho beccato in terza fila e quindi devo dire è la prima volta che utilizziamo questo luogo, è effettivamente un luogo interessante in un posto affascinante e quindi siamo anche felici che Biennale Democrazia sia ospitata e inauguri questo luogo in una manifestazione così ampia. Manifestazione che è la sua quarta edizione, è un forum che come ricordavano all'inaugurazione il sindaco Fassino e il nostro presidente Gustavo Zagrebeschi è un forum unico nel panorama nazionale e internazionale e all'interno di questo forum nasce questa iniziativa organizzata dalla Fondazione Ordine Architetti nel solco di una ormai consolidata tradizione di collaborazione con Biennale Democrazia. Una scelta della Fondazione che all'inizio è stata ritenuta quasi necessaria per far comprendere meglio ai cittadini, visto che Biennale si rivolge un pubblico a un pubblico ampio e quindi ai cittadini e al pubblico di Biennale l'importanza e la responsabilità etica dell'architettura e degli architetti. Questo nell'intrecciarsi delle diverse dimensioni della democrazia. La Fondazione ha cercato di farlo in questi anni attraverso il racconto di esempi concreti e oggi ne è appunto testimonianza, l'organizzazione di workshop, dibattiti, eventi di pratica democratica dell'architettura e questo anche con la contaminazione di altre arti e di altre discipline. Cito solo alcune delle iniziative che sono state fatte in queste tre edizioni di Biennale della Fondazione Arti, abitare la città, i luoghi urbani della democrazia, architettura per pochi e architettura per molti, design ecodemocratico, città bambine. Quindi già dai titoli si capisce il filo della ricerca che la Fondazione ha cercato di portare avanti in queste edizioni all'interno di Biennale e l'iniziativa di oggi si inserisce in questo filo di ricerca. Il tema di quest'anno di Biennale è il tema dei passaggi e quindi chi costruisce la città, che è l'iniziativa che a breve inizierà in questa sessione, pone una domanda, una questione e la volontà di attivare un confronto mettendo casi studio in dibattito, che nasce dal partnership della Fondazione con il Goethe Institute, che ringraziamo per la collaborazione e per il supporto a questa iniziativa e raccogliendo un testimone di un dibattito lanciato nello scorso anno del Goethe proprio sul tema chi costruisce la città e che ci è sembrato particolarmente adatto per essere ripreso nella cornice di questa edizione di Biennale e anche come uno dei momenti dedicati al gemellaggio Torino incontra Berlino che per tutto l'anno caratterizzerà il panorama culturale della nostra città. Chi costruisce la città è una triangolazione di esperienze tra città, Berlino, Milano e Torino. Sono tre diversi casi di trasformazione urbana che segnano il passaggio appunto da una pianificazione storicamente e tradizionalmente autoritaria verso nuove forme di progettazione urbana promossa attraverso la partecipazione, devo dire, non convenzionale, quindi una partecipazione che non è costruita in forma istituzionale ma che assume in questo suo percorso valori fondamentali come la coabitazione tra generazioni diverse, l'ecologicamente sostenibile, l'assenza di barriere architettoniche, l'interculturalità e l'integrazione sociale, quindi paradigmi che in realtà si distaccano e sono anche in alcune situazioni in antitesi con la tradizionale pianificazione urbanistica e territoriale. È un processo che si può definire un percorso di urban social innovation alla ricerca o al ritorno di una sorta di democrazia urbana capace di recuperare la dimensione comunitaria e relazionale del vivere in città. Io chiudo questa brevissima introduzione ai lavori e introduco a questo confronto Stefano Boeri, architetto che vive e lavora a Milano, professore ordinario di progettazione urbanistica presso il Politecnico di Milano, ha progettato numerose architetture in Italia e in campo internazionale, una fra tutte noto e premiato Bosco Verticale di Milano. Ha fatto parte della consulta architettonica per le linee guida dell'Expo 2015 Milano, è stato direttore della rivista Domus, direttore artistico del Festival Internazionale di Festarc e oggi è direttore artistico dell'Estate Fiorentina per il Sindaco di Firenze. Segnalò anche un'esperienza da pubblico amministratore dal giugno 2011 al marzo 2013 è stato assessore alla cultura, al design e moda del Comune di Milano, quindi un profilo che è ricco di esperienze professionali, di esperienze culturali, scientifiche, di impegno pubblico, quindi chi meglio di lui ci può introdurre a questa questione che oggi abbiamo messo in campo. Chi costruisce la città? Stefano Boeri. Grazie. Io vorrei in questa introduzione provare a suggerire che poi presenterà una serie di casi reali di costruzione di spazi urbani, di spazi di socialità soprattutto, di spazi di vita, tre possibili chiavi. Stiamo parlando di chi costruisce la città innanzitutto, non stiamo parlando di chi progetta la città, non stiamo parlando di chi abita la città, non stiamo parlando di chi governa la città, che non significa che queste quattro cose non siano sostanzialmente interrelate. Significa che però scegliere come punto di discussione le risorse, le energie, le modalità, le regole di costruzione della città ci pone in una prospettiva molto particolare. Allora se proviamo a accettare questa prospettiva, a me sembra che noi guardando la città europea, il territorio europeo, mi sembra un campo sufficientemente esteso e variegato di esperienze, di fenomenologie, possiamo osservare tre grandi modalità di costruzione. Ciascuna di queste è naturalmente espuria, non è definibile secondo un perimetro netto, ciascuna di queste ha a che vedere con un rapporto tra la sfera del pubblico e la sfera del privato, ciascuna di queste ha a che vedere con un rapporto particolare con le pratiche di pianificazione e le pratiche di progettazione. Ciascuna di queste implica anche un'idea politica di relazione tra Stato e mercato, di relazione con la grande questione del mercato. In modo molto sintetico, e poi cercherò magari dopo alla fine di riprendere anche alla luce di quanto avremmo tutti sentito, perché oggi al centro di questa discussione stanno una serie di esperienze vere, vive, concrete. In modo molto sintetico queste tre forme a me pare erano essere. La prima è una modalità di costruzione della città per così dire caduta, sono pezzi di territorio già costruiti o in attesa di essere trasformati, che vengono acquisiti con modalità diverse, acquistati, presi in concessione, da alcuni grandi soggetti della finanza, del mondo del real estate internazionale. Io due settimane fa ero a Cannes, al MIPIM, che oggi è di fatto a livello europeo certamente la più grande fiera del real estate, è la seconda volta che mi capitava di partecipare alle giornate di discussione del MIPIM e devo dire che la sensazione che ci sia oggi una competizione tra alcune città, interessante anche la geopolitica che si era messa in scena al MIPIM, la Russia era sparita, che pure l'anno scorso era ancora molto forte, c'era una presenza molto meno forte da un punto di vista dell'offerta di spazi da parte dei paesi del Golfo e c'era invece un ritorno fortissimo dell'Europa, ma di un'Europa particolare. Era fortissima la Norvegia, era fortissima la Turchia ed era un sistema di città di media dimensione, cito Lione, cito Lille per darvi un'idea, che si candidano ad essere luogo di atterraggio di capitali prevalentemente internazionali, in alcuni casi legati anche ai fondi sovrani, che oggi più che rischiare progetti di sviluppo tendono ad acquistare porzioni di città. Conoscete il caso di Porta Nuova, visto che è stato citato, Porta Nuova, un pezzo di Milano costruito, diciamo tra il 2005 e il 2015, è di fatto, dopo la vicenda della Bicocca, che è un quartiere industriale proprietario della Pirelli, dismesso nel corso degli anni 80 e 90 e di fatto affidato a un grande operatore pubblico come l'Università e affidato alla mano di un unico grande architetto che voi conoscete bene, Vittorio Gregotti. Bene, il caso di Porta Nuova a Milano, qua vicino, è il caso di una realtà totalmente diversa, prima una grande frammentazione delle proprietà, più di 32, arriva un unico operatore, le compra tutte, affida a architetti molto diversi la realizzazione di questo spazio e oggi questo pezzo di città, perché tale viene completamente acquisito dai fondi sovrano del Qatar. Questa è una prima modalità, è una modalità molto forte ed è una modalità che oggi vede una competizione certamente importante e certamente discutibile tra le città, città che si mettono in scena per vendere i loro pezzi migliori, città che si mettono in scena per cercare di controllare questi processi tra virgolette di dismissione del parte del patrimonio con forma di compensazione, quindi naturalmente cercando di mantenere una regia, cercando di chiedere in cambio delle forme di sostituzione o di compensazione. Seconda grande modalità è quella invece che, se vogliamo, ha costruito le nostre città e quando dico ha costruito le nostre città intendo dire quel fenomeno di somma, di addizione, di un grande numero di piccoli interventi di modificazione che è stata la grande energia del territorio italiano. Iniziamo con la fine degli anni 70, inizio degli anni 80, probabilmente questo fenomeno ha origine anche in una scelta da parte degli allora governi, soprattutto dei governi di centro-sinistra, di non investire in infrastrutture e in servizi ma sostanzialmente di investire le famiglie di un capitale molecolare che è stato immediatamente subito investito nello spazio, nell'acquisto di una casa soprattutto, nella costruzione di una casa o della costruzione di uno spazio commerciale o della costruzione di un spazio per una piccola impresa. Questo fenomeno che in alcuni casi ha acquisito, ha assunto il carattere dell'abusivismo e in molti altri casi ha assunto un carattere del tutto legale è stata la costruzione del nostro territorio. Migliaia, migliaia, migliaia di palazzine, di villette, di centri commerciali, di autolavaggi, di contenitori che hanno invaso non solo i territori del nostro paese e che hanno raccontato una energia in questo caso molecolare, diffusa, che ha completamente trasfigurato porzioni immense del territorio che abitiamo. Quindi se volete quasi un fenomeno opposto al primo, un fenomeno che declina in un modo diverso un concetto che qui noi oggi discutiamo in qualche modo che è quello di democrazia, perché trattasi anche questo di un fenomeno che in qualche modo ha a che vedere con una democratizzazione delle possibilità di modificazione dello spazio. E poi c'è una terza chiave, e concludo, che potremmo dire assai più complessa che invece muove i processi di autoorganizzazione, reti generative di momenti di trasformazione e costruzione della città. Nel 2000 io partecipai a una grande mostra sulla metropole, sulle mutazioni urbane in Francia per l'anno 2000 e il gruppo di ricerca di cui facevo parte si occupò in specifico di raccontare come la città europea, che era ancora in quegli anni lontana ovviamente dalla crisi sostanziale degli ultimi 7-8 anni, ma anche lontana, perlomeno nelle regioni che più conosciamo, più vicine a noi, da quella grande famelica capacità di attrazione e acquisizione per pezzi, che è il carattere prevalente della costruzione per grandi porzioni del territorio negli ultimi anni. In quegli anni l'elemento fondamentale, oltre quello dell'energia molecolare, della moltitudine, era quello della crescere di processi di autoorganizzazione. Quello che noi dicemmo in una ricerca che si chiamava USE, on certain states of Europe, facendo un lavoro di campionatura di una quarantina di casi di trasformazione in Bari e in Europa, era rilevare come gli elementi di vera innovazione, e qui introduco un altro concetto che assieme a quello di democrazia è un elemento di bussola, perché costruire la città non significa necessariamente produrre una novità, si può costruire replicando, si può costruire peggiorando, si può costruire riducendo le potenzialità, le possibilità del futuro. Ecco, in quegli anni quello che noi vedevamo era che nel fenomeno di invasione di tutti gli spazi pubblici di Belgrado, di commercio ambulante di nuova generazione, molto veloce, molto invasivo, ma anche molto ricco di varietà. Nei fenomeni vicino a Valencia di costruzione di un sistema di piccole imprese che cominciava a fare rete, cominciava ad avere una dimensione sul territorio che caratterizzava anche gli spazi dell'abitare, cioè le forme di mix di abitare e lavoro. Nei fenomeni di totale ripensamento funzionale di alcuni grandi edifici del patrimonio pubblico, di alcuni grandi dinosauri del patrimonio pubblico sviluppati per esempio in alcuni quartieri etnici di Parigi, dove comunità asiattiche avevano cambiato completamente il sistema delle registrazioni funzionali, riorganizzando gli spazi all'interno. Per citare tre casi che avevamo studiato in quella ricerca, la novità in Europa veniva da processi di autoorganizzazione. Con l'accortezza di dirci, e ripeterei oggi, che autoorganizzazione non significa necessariamente un'idea un po' mitologica di partecipazione. Partecipazione a alcune opzioni politiche, partecipazione a alcuni progetti, alcune idee di trasformazione. L'autoorganizzazione può voler dire la costituzione di corpi intermedi, che sono sostanzialmente delle reti, che a volte non coinvolgono le istituzioni, a volte le coinvolgono, che a volte si creano e diventano istituzioni, che spesso hanno però un rapporto fortissimo con dei luoghi, con dei luoghi disponibili nello spazio, e che cercano di lavorare nella direzione di socializzare, considerare questi spazi, usando un termine ormai desueto, beni comuni, spazi che sono in qualche modo disponibili a una molteplicità di usi, e dunque imprevedibili, perché io credo che poi alla fine ciò che caratterizza gli spazi pubblici sia l'imprevedibilità, non può che essere l'imprevedibilità. Ecco allora, e concludo, a me pare che ci siano queste tre grandi forme di costruzione oggi del territorio. La prima è una forma che potremmo anche definire l'autoritaria se non fosse che dentro questa autorità non c'è più lo soggetto pubblico. Questo è un elemento fondamentale che non possiamo considerare. Io credo, lasciatemelo dire, che davvero oggi il tema della pianificazione, dell'autoritarismo, della pianificazione sia un tema, non dico rilevante, ma un tema da guardare con una certa ironia. Con una certa ironia. Allora, cominciamo a ripetere che c'è oggi un tema fondamentale della costruzione di porzioni, di porzioni importanti, o in estensione o maggiormente di recupero, di qualificazione che viene gestito da alcuni grandi soggetti del capitale internazionale. Poi c'è una seconda chiave che secondo me è quella, è una specie di basso continuo, che ha sentito la crisi, che si è ridotta fino a forse ad esaurirsi quasi del tutto negli ultimi 7-8 anni, ma che è stata la grande onda dell'energia di costruzione del territorio per 20-25 anni, che è una democrazia economica trasformata in possibilità di costruzione di un proprio spazio di vita, di lavoro, di commercializzazione, di presenza. E il terzo è invece un sistema più reticolare di processi di autocostruzione, costruzione e trasformazione degli spazi destinati a una funzione di socializzazione che ha attraversato la nostra storia. Siamo oggi qui in uno di questi spazi, perché quello che è successo, sta succedendo nella cavallerizza, è esattamente il costituirsi di una rete generativa, peraltro molto ricca, molto complessa, molto eterogenea, che sta cambiando un pezzo del centro storico di Torino. Io finirei e poi spendo dopo. Grazie a Boerico, con la sua introduzione ci ha anche reso comprensibile la complessità degli ingredienti che stanno dietro questo ragionamento di oggi. Sapevamo perfettamente che questa domanda apriva un ventaglio infinito di interpretazioni, quindi oggi abbiamo un piccolo spaccato di questa interpretazione di Costruisce la città e credo che siano tre casi che hanno interpretato come filo trainante della loro riflessione l'infrastruttura sociale al centro del progetto di trasformazione urbana e quindi a fronte di appunto quell'ironia che io credo che sia molto bassa la dose di ironia nella dimensione urbanistica contemporanea, perché già solo il termine semantico piano regolatore già la dice lunga ed è comunque lo strumento principe con cui ci misuriamo e lo strumento di partecipazione al piano regolatore è l'istituto delle osservazioni, che molto volte hanno un linguaggio bizantino, illustrissimo sindaco, il presente proprietario della particella X chiede, è l'istituto della risposta e la contraddeduzione, quindi insomma l'insieme di questa semantica già ci fa capire che poi quella però è la prassi quotidiana, è ancora la prassi quotidiana dell'urbanistica e della pianificazione territoriale. Quindi questi tre casi invece mettono in antitesi l'infrastruttura sociale rispetto all'infrastruttura fisica o alla rendita fondiare che fino a oggi è stata diciamo motore fino a qualche anno fa delle nostre trasformazioni, un modello su cui confrontarsi e discutere che in effetti rischia in alcuni casi la deriva della partecipazione retorica ma mi sembra che in queste tre esperienze invece questa deriva forse non la ritroviamo. Quindi io passerei la parola all'intervento, al primo intervento di racconto delle esperienze a Michael Laffond che ci racconta l'esperienza di Berlino. Michael Laffond dirige l'ID22 che è un istituto per la sostenibilità creativa di Berlino, è studioso di origine tedesco-americana, ricerca insegna e scrive sviluppo di superfici non edificati e immobili sfitti e sull'impiego innovativo di tecnologia ambientale e democratizzazione dei processi di pianificazione urbana. Quindi Michael si dovrebbe trovare benissimo dentro Biennale Democrazia perché è il suo tema di ricerca fondamentale credo. La parola a Michael. So, buongiorno, buonasera, guten tag, good afternoon. Sorry my Italian is terrible. I hope you understand my English, probably better than my German. It's an honour for me to be here. Thank you for the invitation. First of all, I'm happy to be in this city on this spring day. It looks much better than it does in Berlin in the last few days. It's been cold and rainy, so this is really quite a kind of a wake up for this year coming out of the long Berlin winter. Nice to see some mountains again and some blue sky after many months of grey sky in Berlin. So I'm in a sense representing Berlin. Well, that's saying too much. I'm representing my own organization and that's ID 22, the Institute for Creative Sustainability. We work in Berlin. We work internationally. My background, I think as was mentioned, is a combination of architecture, urban design and planning and an emphasis on what I call community development. With our organization in Berlin, we focus on what we call creative sustainability and an exploration of urban democracy. What does that mean? How can we improve on this? How can we realize that our democracies are in no way of final products but all needing some further development? We have this question today of who builds the city? And I think that's a fantastic one to organize our discussion. My own organization, as I say, deals with this question in Berlin and internationally. We do research. We do networking. We have our our key topics, which in English we would call co-housing, co-working, community gardening. A lot of self-organized projects, which Berlin is, I think, famous for in recent years. We are especially interested in a search for what we can call collaborative strategies. So self-organized, but not just DIY, people doing things for themselves, but the DIT, people coming together looking for ways to create or manage spaces in the city in some kind of a social or cooperative way. So who does build the city? First of all, I would like to expand on this question. And my own interest is not so much focusing on who builds the city. I think it's even more important to ask who's, well, not just planning and designing the city or building the city, but who's who's managing the city. Who is really building or planning or managing the city these days. Sometimes people, sometimes citizens, but no surprise, I think it's true in all of our cities, experts, people in power, part of the planning establishment, experts and specialists. In any case, planning, especially the larger a project is, is usually not really a democratic process, but more of a kind of a top-down, not authoritarian, but a top-down institutional kind of a structure that is asking, I think, for some democratization. My organization, we focus on this term of creative sustainability, and we like to talk about sustainable urban development being a cultural challenge. So not first and foremost a technical question, but a cultural question. How do we deal with this in our respective cities? How do we communicate and understand people? How do we involve people? How do we how do we speak their language? How do we motivate and inspire people? We talk about this with two different dimensions. One of them is the question of the rights to the city. Who has the right to help build or plan or manage the city? A political question dealing with decision-making and power. And we'd like to complement this with a cultural dimension. We talk about the right to expression and meaning the right for people if they have the time and the interest to help to shape and to create their city in a sense that as human beings we're interested in helping to make decisions, but we're interested in helping to shape our environments so that we can identify with our environment. So it's an expressive moment that I think architects can all relate to, but we're interested in extending this to the to the people of the people of the city with the position that all people of any given city or neighborhood are creative in some way. We have a focus when we talk about cultures of sustainability or cultures of urban sustainable development. We have a focus on co-housing cultures and we see self-organized housing projects as potentially being being a significant foundation for the sustainability in a city. We like to say that these things are self-organized, that they have a community orientation, that in some way they're interested in the question of sustainability. For us this goes beyond participation. If we say that participation is quite often, if not usually, a process that's initiated by a government or 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 by some kind of a company where people are asked to comment on some plans, to go beyond that, to really ask people what they want or what they don't want and to ask people or to encourage people to take some steps to realize some of their own dreams. Beginning with housing makes a lot of sense to us. We all live somewhere and this is a nice place for people to learn how to express themselves or how to begin to shape or manage their environment. We see these kinds of housing projects. We see these kinds of housing projects. We use the term co-housing as an umbrella term in an ideal sense as schools of democracy where people can acquire social skills or basic skills of communication, making compromises, decision making, group process and so on. So taking a look at Berlin, I've been in this city myself for about 25 years so it's about half of my life at this point. What I like to describe as an urban laboratory, I think it's fair to say one of the more interesting urban laboratories on the planet at the moment for a number of reasons. A lot of innovation, a lot of experimentation, a lot of self-organized projects, a lot of co-housing projects. Berlin, on the positive side, a city of design, a city of innovation, a fairly tolerant city in the last years, a city that was for most people affordable. But Berlin has changed as we know many times over the last decades and century, going through some dark ages, going through some brutality, experiencing a war, experiencing a division of the city. And once again, Berlin is changing. Berlin is coming out of sleep, out of kind of a hibernation, being discovered by global capital, being discovered by tourists. Berlin is on the map again and it's growing and it's being gentrified and this means it's losing some of these things that we've grown to like. affordability, spaces for opportunity, opportunities for people to organize their own projects. I want to give a few specific examples. On the one hand, just to give some indication of the situation of the urban democracy in Berlin, to show that there is what I would call a critical and awake population that is following the projects that are being proposed and in some cases resisting them or protesting them. First of all, on the Spree River, the Media Spree Project, basically a top-down initiative coming from the city with large landowners along the river to market what was left of the open spaces on the river to bring in global corporations to create headquarters. Everything from Mercedes to Coca-Cola or MTV and so on. This ran into a lot of resistance from the local neighborhoods. people collected signatures. They forced a vote and a majority of the people voted against this Media Spree Project. They voted against the city becoming more exclusive and they voted for this waterfront that was being rediscovered. They voted for this being maintained as an open or inclusive or as an affordable part of the city. not wanting gated communities to emerge. So a successful story, I say, where a Berlin population was actually able to make a difference in a large urban development top-down process. The second one is going to the closed airport of Tempelhof, an important airport for West Berlin in the last decade. It's closed in 2008, finally opened to the public in 2011. The city has had its own master plan to develop new housing and commercial space. It's not necessarily such a terrible master plan, but the process was bad as the people of Berlin saw it and the people were skeptical. Again, but this time at the city level, the citizens collected signatures, got it voted on and the majority of the people in Berlin voted to stop it. And so, in fact, the development of this field has been stopped at least for a few years. So another success story to show that citizens of a city can organize themselves in some cases to resist projects that are coming from the top that the people don't see as being in their interest. I would like to talk about a more positive project, so self-organization where people organize to create something. I've been part of a new housing cooperative for the last, well, four or five years. We've been living there and working there for one year called the Sprayfeld Housing Cooperative, a mixed-use project on the river. In a sense, a response to this media spray or a response to the citizens' efforts to keep the waterfront open. And so our project and some others are emerging to see how that can be done. So incorporating private interests of people living there with a public interest, meaning no gated community, access to the waterfront, access to the land, public uses. This housing project is a self-organized initiative, chose the structure of the cooperative. Why? Being a democratic decision-making structure, one person, one vote. The housing cooperative, if it's done right, representing a very stable ownership or management structure, something that can maintain a relatively affordable housing over decades, if not for a century. Focusing on the value of use of space and not beginning with a profit interest and not looking to create exclusivity or a gated community, but, again, to try to bring together public and private interests. Having a big interest in process. So for me, this relates to the idea of democracy. How do we involve people? That means a lot of process. Taking time for discussions, allowing for compromises, not just encouraging the architects to make all of the decisions. Of course, working with architects and respecting their expertise, but bringing in the people who will be living and working there over the course of months and years to come up with results that everybody is happy with. Just a couple of examples about what this can mean with process. We have given people opportunities to not just help design, but actually to make or to build. So people could order a rough construction apartment, meaning getting the rough standards, so no interior walls, no nothing. And people could do that with their own hands or with their own assistance to build out their apartment. A lot of spaces are being finished, anyway, by people of the cooperative and, of course, the outdoor spaces as well. We also have things looking at the social architecture. In English, I would call them shared living groups or cluster apartments. So in the interest of a direct democracy or in the interest of direct participation, giving people the opportunity to really directly help decide how the spaces are planned and then how they are managed. So, for example, I'm part of a shared living group, 800 square meters over two floors with 21 people. And we had the opportunity over a few years to basically do all of that and then to help build it as well. So having what we would like to see as the best of both worlds, combining private spaces, private apartments with community spaces, meaning the opportunity to cook and eat together on a daily basis. Just a few other pieces of information about the Spreefeld Housing Cooperative before I conclude. Just some bits of information. Planned between 2008 and 2014. Moved in in the last year were about 130 residents. About 100 people are working there. At the ground level, no private uses, but studios, offices, galleries, daycare center, wood workshop, cafe. Community gardens, and we're also quite fortunate to be on the river, so a public beach basically at the ground level. The social aspects are really emphasized. Community, process, democracy, but the ecology is also important in the sense of sustainability. The buildings are designed to a passive level, meaning very energy efficient. We have our own energy and heating system, which is becoming more common for Berlin projects. A car-free site, so no parking garage for automobiles. Instead of that, parking for about 200 bicycles. And also it involves the restoration of the land, so in a former industrial area, slowly recovering this land so that it's a place where people want to be. To summarize this, where is this all going? Where is Berlin headed? Some people in Berlin say that the party is over. I'm not sure if that's really true. I think the big party, the wild or crazy party is over. Things are getting more serious. Berlin is being normalized, again discovered by global capital. It's a growing city again, but still an innovative city. And thanks to the last few decades of innovation and experimentation, quite a good bit of momentum or inertia. A good foundation that is moving us forward and allowing things like our housing cooperative to come out of that. In any case, myself and others in Berlin are realizing that as things get more serious that we have to look more carefully at how this can continue. It's not as easy as it was. We have to network. We have to work with the city. We have to look beyond our borders and talk with people from cities like Torino to see how things are going or what innovative strategies might have here. So that's where we are right now, basically coming out of the party phase and waking up and realizing we're in this, in some ways, cruel and competitive world. And that it makes sense to share experiences. So I guess that's one of the reasons or main reason why I'm here today is to share some experiences from Berlin, from the north and to see what you're doing here and take home some inspiration. Thanks for listening and for your attention today. And again, I'm happy to be here. And thanks for the nice sunny weather. And I look forward to the rest of the presentations and the rest of the conference. And also what I understand the actions that are coming up in the next few days. So encouragement to not just talk but to get out there on the streets and show your interests. Okay, thank you and enjoy the rest of the conference. Thank you. Grazie a Michael Lafond, intanto che la giornata di sole primaverile ha lieti questo mondo crudele e competitivo che nella sua parte finale ci ha evocato, tra l'altro mi ha colpito il tema della sostenibilità creativa diffusa dal basso a Berlino perché mi ricordo in questo discorso Visioni dall'alto e dal basso invece qualche anno fa mi aveva colpito una ricerca del Lance che è la Società Nazionale dei Costruttori degli Italiani una ricerca molto glamour sulla città dei creativi dove si cercava di dimostrare che l'indicatore della creatività quindi la capacità di attrarre creativi nelle città e soprattutto nelle megalopoli era uno degli elementi fondamentali della competizione globale e quindi una visione devo dire volto dall'alto, anzi si chiedeva concentrazioni di città per diventare città creative e quindi l'ottimismo di questa sostenibilità diffusa nei quartieri di Berlino ci consola e speriamo che Torino incontra Berlino più che crudeltà e competizione ci porti sostenibilità e creatività. Introduco Federica Verona, progetto Zoya, un altro caso di democrazia urbana credo che alcune parole che si sono ripercorse nell'intervento di Michael Lafon si ritrovano anche nella vostra esperienza quindi a te la parola. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Allora io sono consigliere di gestione di un consorzio di cooperative di abitanti che si chiama CCL che raduna circa 50 cooperative nate negli anni 50 di fatto per dare casa ai lavoratori cosa che cerca di fare tutt'oggi nonostante i tempi di crisi. Le cooperative raggruppate all'interno del consorzio sono cooperative proprietà divisa ci sono due gruppi fondamentali di cooperative la proprietà divisa significa che la cooperativa viene costituita dai soci che poi abiteranno la loro casa i soci seguono tutto un iter che li porta dal grado zero fino al rogito dopo il rogito la cooperativa si scioglie e loro escono. La proprietà indivisa invece ha un'altra natura nel senso che le cooperative acquistano l'immobile attraverso il prestito sociale dei soci e poi lo riaffittano i soci stessi con degli affitti di lungo periodo a volte anche decennali. Nel nostro caso appunto raduniamo circa 50 cooperative ogni cooperativa attraverso il consorzio vive un iter che appunto ripeto va dall'acquisto dell'area alla scelta dei progettisti, alla realizzazione del progetto agli iter urbanistici che in Italia sono molto lunghi e molto complessi alla scelta dell'impresa fino alla realizzazione del cantiere. Il socio in tutto questo è un protagonista fondamentale dell'operazione nel senso che proprio si parla di democrazia il socio partecipa dall'inizio alla realizzazione della sua casa con i pro con i contro perché poi non è sempre facile mettere d'accordo tutti. Una di queste cooperative che si chiama Cooperativa Solidarmo ci ha partecipato nel 2008 ad un bando del Comune di Milano il bando delle otto aree lo ha fatto insieme ad una cooperativa che si chiama Cooperativa Edificatrice Ferruccio De Gradi aderente a Lega Copp e di fatto si è trovata a gareggiare per quest'area di 5.400 metri quadri di SLP dove l'allora Assessore Masseroli decise di tramutare delle aree a standard edilizio quindi che sarebbero state destinate a dei servizi, parcheggi e cose simili ad un progetto di social housing. Social housing che cosa significa? Significa mettere insieme alloggi in proprietà a basso costo cioè al di sotto dei costi di mercato alloggi in affitto a canone convenzionato e alloggi in affitto a canone sociale con abitanti che sono stati direttamente selezionati dal Comune e stimolare agli operatori che avrebbero partecipato a questo bando un progetto sociale, un progetto di coesione poi usare questi termini progetto sociale sembra cose molto pesanti ma sono termini un po' così ridondanti però il motivo era che per la prima volta di fatto a Milano si apriva un bando a degli operatori quindi imprese cooperative differentemente al bando abitare a Milano che invece per la realizzazione di alloggi popolari veniva aperto ai progettisti in questo caso il Comune aveva bisogno di un gestore oltre che di un progettista con magari qualche rischio nel senso che affidare spesso agli operatori dei progetti il rischio poteva essere che i progetti non fossero qualitativamente belli e su questo il bando era fatto devo dire molto bene nel senso che richiedeva una forte componente progettuale di qualità chiedendo proprio di inserire delle progettualità un po' più giovani rispetto al mondo un po' più antico delle cooperative e delle eventuali imprese che avrebbero partecipato abbiamo selezionato un giovane progettista che si chiama Vincenzo Gallio che è stato affiancato invece delle figure un po' più old nel senso un po' più esperte forse dal punto di vista sia dell'esecuzione del cantiere e dal punto di vista dei rapporti con il Comune in realtà dico questo perché la figura di Luca Mangoni che è un progettista a molti può essere forse più noto perché è anche il figurante di Elio e le storie tese però è un bravo progettista ed ha seguito con grande attenzione tutto l'iter progettuale che è stato molto lungo perché essendo uno spazio che vedeva la presenza di una piazza pubblica e di un'area privata servito a uso pubblico ha dovuto di fatto assecondare tutta una serie di burocrazie di scelte, di imposizioni anche da parte degli uffici del Comune molto lunga, molto intensa e quindi questo per dire che la squadra che si è costituita era una squadra di diverse competenze il progetto è di fatto in classe A, termico, fotovoltaico con una forte attenzione al risparmio energetico e credo, insomma, ci abbiamo provato abbiamo cercato di restituire dal punto di vista progettuale anche dello spazio pubblico, dello spazio nuovo che per un quartiere come quello di Quarto Cagnino andava a sostituire un vecchio parcheggio di fatto un posto dove si andava ad insegnare ai ragazzini a prendere la patente o dove si teneva il mercato che tuttora si tiene sulla piazza insomma abbiamo cercato di restituire dal punto di vista urbano una dimensione che chiaramente a oggi che il progetto è stato inaugurato a oggi che il progetto è vissuto è di fatto una sfida 90 alloggi, dicevo, 90 alloggi di cui una buona percentuale in affitto a canone convenzionato e sociale chi ha acquistato casa in proprietà ha pagato la sua casa circa 2000 euro al metro quadro comprensiva di cantina più box ha seguito con noi appunto tutto questo hitter di assemblee di incontri, ha condiviso con noi gioie e dolori del cantiere delle problematiche che in un cantiere chiaramente si possono emergere i soci nel nostro caso di solito fanno parte di un consiglio di amministrazione della cooperativa quindi hanno diritto di voto e quindi per questo dico per loro è anche un'esperienza molto forte nel senso che in questo caso tra l'altro il bando chiedeva che vi fossero dei requisiti ben precisi per poter abitare Zoya era la prima casa e quindi questo si è portato dietro moltissime come dire, moltissime pressioni anche psicologiche perché voleva dire appunto finalmente investire i soldi di una vita nella loro prima casa o nella casa per il figlio la compagine degli abitanti appunto della proprietà è varia ci sono molti giovani, molte coppie, qualche anziano si conoscono tutti, hanno una sala comune che gestiscono con, stanno provando a gestire perché poi un po' discutono tra di loro anche animatamente a volte però appunto è la democrazia quindi che porta con sé appunto sia le discussioni in bene che la difficoltà poi di decidere come gestire questi spazi comuni e devo dire che un po' una comunità si è costruita insieme a loro appunto c'è l'affitto affitto convenzionato, affitto a canone sociale lista ERP del comune quindi persone che sono state prese a caso da queste liste che sono lunghissime sono di fatto un problema nel senso che c'è molta gente che ha bisogno di casa in questo caso devo dire è stato molto strano perché noi avevamo finito il cantiere abbiamo dovuto attendere quasi un anno prima di ricevere i nominativi perché pareva che coloro che erano in lista facessero fatica ad accettare un contratto 4 più 4 perché la novità un po' di questo progetto è che come dicevo prima non è il comune a gestirlo non è Aler a gestirlo ma sono gli operatori e quindi sono gli operatori che hanno a che fare con gli affittuari e quindi il terrore di avere l'affitto 4 più 4 è chiaramente una novità importante importante in una città come Milano che vede dei problemi abbastanza ingenti nelle case popolari che appunto non hanno ricambio che spesso cadono a pezzi quindi paradossalmente mentre ci aspettavamo di avere riempiti prima gli alloggi a canone sociale che non sono molti sono 16 abbiamo dovuto attendere l'ultimo contratto è stato firmato neanche un mese fa appunto il comune oltre a chiedere agli operatori un progetto di qualità un progetto di sostenibilità ambientale tutta una serie di attenzioni che vi ho citato prima li ha obbligati a costruire un piano di accompagnamento sociale che detta così fa veramente molto assistenza molto assistenzialismo ma in realtà è stato uno stimolo per provare a capire che cosa potevamo come potevamo costruire a Zoya a partire da zero una serie di relazioni è una sfida non facile perché non è come dirlo nel senso che imporle dall'alto sarebbe stato rischioso e quindi nel momento in cui è iniziato il cantiere il cantiere è ritardato di un anno perché il mercato comunale non voleva più spostarsi dall'area e vabbè insomma sono i problemi del caso appena abbiamo iniziato il cantiere abbiamo iniziato anche un lavoro di chiamiamola mappatura di tutte quelle che sono le associazioni le realtà Zoya sta a Quarto Cagnino Quarto Cagnino è una periferia a mio avviso interessantissima perché è ancora un quartiere dove si parla milanese c'è la bocciofila non c'è molta immigrazione i giovani scappano perché ovviamente è popolato dagli anziani ma nello stesso tempo lì vicino c'è il parco delle cave c'è il parco di trenno c'è lo stadio di San Siro ci sono attività sportive continue quindi è un luogo molto interessante perché da un lato è connotato da questa forte edilizia popolare degli anni che furono e dall'altra parte però mantiene quella sua tradizione popolare e si inventa forme di socialità che partono dal basso in maniera assolutamente attiva e costante quasi in maniera continuamente propositiva quindi abbiamo iniziato ad intervistare chiunque facendoci raccontare la loro storia che cosa fanno quali attività svolgono e abbiamo contemporaneamente aperto un blog che si chiama Zoya Blog che forse qualcuno di voi avrà visto ed è un blog che aveva la duplice intenzione di da un lato raccontare agli abitanti come sarebbe stata la loro casa loro comprano casa su carta e si devono fidare nel senso che ci sono le assemblee però non sanno non entrano in cantiere entrano in cantiere gli abitanti in tre fasi nel momento in cui scelgono le varianti murarie le varianti elettriche e scelgono i pavimenti e le porte hanno un assistente ai soci che li segue nella fase progettuale che gli fa ad hoc la loro casa ma di fatto non entrano normalmente in cantiere quindi nel blog venivano raccontate grazie a Luca Mangoni è stato sfruttato ha sfruttato la sua celebrità attraverso questo videogiornale che lui faceva ogni mese in cui raccontava l'aggiornamento ai lavori questo devo dire che è stato molto utile ai soci perché così prendevano di fatto dimestichezza con la loro futura casa in maniera veloce dall'altra parte il blog invece aveva l'intenzione di raccontare il quartiere di raccontare tutto quello che attorno a soia succede una volta chiusa la ricerca capite le relazioni che potevamo instaurare con i nostri vicini di casa ci siamo interrogati su che cosa fare il comune ci obbligava a mettere a disposizione il 5% di tutta la superficie quindi pari di 300 metri quadri per attività dedicate ad abitanti e quartiere uno dei temi forti che emergeva e che le botteghe non ci sono più che non ci sono più realtà creative che che mancava di fatto qualcosa che simolasse un po' il quartiere e allora abbiamo deciso di far partire questo concorso che si chiama Zoi Officine Creative che si è chiuso ad aprile dell'anno scorso e lo abbiamo aperto a dei giovani professionisti del mondo dell'arte dell'artigianato dell'architettura di ogni professione di fatto che avesse a che fare con la creatività abbiamo detto loro che gli avremmo affittato degli spazi di circa 50 metri quadri a 150 euro al mese quindi per Milano una cifra devo dire molto bassa e in cambio gli abbiamo chiesto però di restituirci dei progetti per gli abitanti e il quartiere quindi provare a utilizzare questa risorsa che di fatto io ho visto girando tra le associazioni tra la popolazione limitrofa chiedendo loro di utilizzarla di sfruttarla di farsi conoscere anche in questo modo per entrare nella vita di quartiere hanno vinto un liutaio un liutaio che ha circa 60 anni era in aspettativa ha sempre fatto il liutaio come secondo mestiere ad un certo punto è stato licenziato e quindi ha deciso di provare di aprirsi la sua attività hanno vinto un gruppo di un collettivo di donne che lavorano nel mondo del teatro quindi sono trucatrici scenografe sarte e quant'altro ha aperto lì una galleria d'arte questa ragazza che che appunto organizza mostre in continuazione e uno studio di architettura ognuno di loro si è inventato questa dimensione che un po' si intreccia nel senso che ovviamente collaborano tra di loro ma promuovono continuamente attività faccio un esempio l'altro giorno un'associazione di quartiere siccome sono arrivate delle donne arabe ha deciso di raccontare la loro storia attraverso un reading e quindi si sono tutti riuniti in questa serata organizzata nello spazio delle scenografie in cui il liutaio ha suonato dei pezzi della loro tradizione insomma si costruiscono piccole piccole micro realtà che di fatto in un quartiere dove c'è molto ma non è messo come dire in una regia chi abita lì se scende di casa trova una risposta che va dall'aiutatemi ad appendere un quadro al sistematemi la sedia d'ondolo che è rotta oppure all'aiutatio l'altro giorno sono andati a chiedere di accordare questa chitarra per fare i maccheroni alla chitarra questa signora si è affacciata timidamente e però si sta generando pian piano non nego non è facile perché comunque è un lavoro che si moltiplica nel tempo e con tanta pazienza e anche con passione perché poi sono tutte realtà che non hanno ambizioni hanno ambizioni normali semplici a partire dal realizzare la propria realtà professionale perché tutti loro hanno un lavoro e questo è importante e fondamentale quindi per chiudere perché sarò stata lunghissima io credo che Zoya sia un progetto interessante che è avvenuto perché il pubblico ha come dire finanziato in qualche modo il privato perché tra l'altro il progetto è stato realizzato grazie ad un finanziamento regionale per gli alloggi in affitto c'è stato un forte abbattimento del costo dell'area che ha costato poco e che ha permesso che chi acquistasse casa Zoya la potesse acquistare ad un costo di mercato più basso quindi una sorta di politica che ha messo insieme pubblico e privato con intelligenza penso però che Zoya non sia l'obiettivo finale penso che da un progetto come questo si debba partire per ragionare per ragionare un po' al futuro dell'abitare penso che sia sia un progetto che parte adesso e che avrà la sua forza vera tra dieci anni quando davvero la comunità funzionerà e chiaro non è sempre non è sempre facile organizzare le cose perché poi per fare una festa nella piazza adesso stiamo cercando di promuovere questi mercati contadini nel sabato mattina è tutto molto difficile perché c'è un utilizzo del suolo pubblico che è un costo fare un concerto all'aperto significa pagare la SIAE e questo per dire che ci sono tutta una serie di difficoltà che forse fanno parte di un sistema iper burocraticizzato che non aiuta alla naturalità dei processi però insomma detto questo noi ci proviamo e continueremo a provare a farlo grazie grazie a Federica se diciamo che la burocrazia può essere effettivamente uno strumento autoritario e difficile da superare quindi siamo solidali l'esperienza di Milano si intreccia con quella di Torino a Torino non c'è la dimensione della costruzione degli interventi edilizi però della struttura sociale e della coabitazione solitale fanno parte del programma housing della compagnia di San Paolo di cui Isabella Brossa ci racconta l'esperienza sintetiche come relatori siamo contenti che siate numerosi visto che il sociale a cui si stanno riferendo da ormai un'oretta non è stato in realtà veramente menzionato esiste un'emergenza abitativa in Italia che è dovuto anche al fatto che ci sia stata a partire dagli anni 80 una progressiva apertura ai capitali privati e come diceva l'architetto Boeri giustamente la gestione del territorio è anche una gestione di tipo politico che si struttura sulla divisione delle competenze delle prerogative sociali tra lo Stato e il mercato e allora ci chiediamo se non sia un po' eccessivo comunque dare tutta questa enfasi di positività al social housing che in realtà non è altro che una parola anglosassone per celare un significato che è edilizia privata sociale il cui strumento finanziario principale tra l'altro è la cassa depositi e prestiti e quindi ci sembra anche rilevante il fatto che la compagnia di San Paolo sia qui a presentare il suo progetto di housing sociale visto che è una delle fondazioni tra le principali azioniste vorremmo sottolineare che esiste un decreto il numero 47 del 2014 piano caso 2014 il decreto Lupi ministro recentemente dimesso che stabilisce all'articolo 3 la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e allora ci chiediamo perché a fronte di 40.000 alloggi che nel 2013 non sono stati assegnati a 700.000 nuclei familiari che nel 2013 avevano il diritto ad accedere alle case popolari e non si sono viste assegnare alcuna casa per carenza strutturale delle stesse o per inadempienza del pubblico allora ci chiediamo perché tutta questa esaltazione del social housing che comunque viene gestito dai capitali privati che ricevono un profitto ricevono un profitto dal disagio sociale che numerosissimi nuclei familiari in Italia stanno provando e l'articolo 5 del decreto Lupi sta gestendo la questione abitativa l'emergenza abitativa come un problema di ordine sociale criminalizzando la povertà e quindi si parla di legalità mentre vengono progressivamente creati blitz di sgomberi abbiamo assistito a un blitz di sgomberi a Milano estremamente violento nell'autunno del 2014 e recentemente a Firenze allora scusatemi vi abbiamo dato la parola allora cortesemente la siete presa però ci piacerebbe in realtà anche una vostra risposta rispetto a questo visto che tra l'altro cercheremo di darla adesso la giunta comunale la giunta comunale precedente aveva promesso 10.000 alloggi popolari entro il 2012 e questo non è stato però vi chiedo davvero cortesemente di rispettare anche la cornice in cui stiamo stiamo finendo c'è anche la testimonianza di una donna buongiorno a tutti io sono una persona che ha lavorato 20 anni in una ditta la mia ditta ha chiuso lo Stato il Comune non mi ha mai dato una mano per loro io dovrei essere sotto i ponti invece di costruire case perché non aiutano le persone che veramente devono io per avere un tetto ho dovuto fare un'occupazione vedete se per voi è giusto con due figli una minorenne questa è la realtà non è costruire case darle a chi ha già i soldi iniziamo ad aiutare anche le persone che non hanno più una casa che non hanno più un lavoro e che non hanno più niente grazie allo Stato e al governo e a chi ha i soldi grazie ovviamente rispettiamo queste posizioni e sappiamo perfettamente che dietro il problema abitativo dell'emergenza abitativa ci sono dei drammi quindi ne siamo tutti consapevoli grazie per aver sollecitato anche questo momento di riflessione non avete messo a loro agio devo dire i relatori ma credo che adesso forse una qualche riflessione possiamo che la risposta a chi costruisce la città qualcuno se la possa dare anche autonomamente a prescindere da quello che gli viene detto all'interno di questa conferenza grazie mille per fortuna il libero arbitrio e la dimensione culturale libera rimane soprattutto in Bielena e la democrazia per cui credo che tutti quanti abbiano gli strumenti per fare delle riflessioni su questo aspetto allora davvero se c'è davvero un intervento molto rapido e coerente con quello che abbiamo visto volentieri prego però chiederei davvero quello girato lo prendo in mano perché mi piace parlare alla genente grazie mille dell'intervento si preferisco molto questa roba è acceso pronto si grazie grazie mille delle presentazioni soprattutto grazie alla presentazione del signor Lafon che ho apprezzato moltissimo ho apprezzato il fatto che il signor Lafon mi corregga se sbaglio i cittadini di Berlino hanno bloccato dal basso una decisione presa dall'alto concernente l'aeroporto di Tempelhof ora questo è molto interessante lo trovo molto interessante mi piacerebbe domandare al signor Lafon quali sono io la capisco però non è il momento delle domande finiamo anche per cortesia posso fare un intervento no non può fare l'intervento però cortesemente potete togliere il microfono grazie di avermi dato il microfono però se me lo ho lasciato usare però c'è anche una cortesia istituzionale devono concludere i relatori sono consigliere comunale nella cittadina di Lelocli in Svizzera ho delle domande e vorrei raccontare l'esperienza che ho fatto se ci sarà spazio lo farà alla fine dell'incontro la ringrazio se non è finito l'incontro no non è finito l'incontro scusa prego meno male che se n'è accorto grazie grazie a lei allora ridiamo dopo questo momento rilassante la parola Isabella Brossa io capisco che il tema di oggi abbiamo innescato evidentemente anche appunto delle reazioni che sono anche legittime però a Isabella il compito di riprendere il filo del discorso da un po' di tempo che mi capita sempre di dovermi smazzare gli aspetti più critici ma va bene va bene così ci proviamo è chiaro dall'intervento che abbiamo ascoltato anche con molto patos dei ragazzi e della testimonianza della signora che il tema casa è nell'agenda pubblica nella testa di ognuno nelle cronache quotidiane un'assoluta priorità io non mi sento di dover fornire una risposta in quanto semplicemente dal mio punto di vista partecipo e faccio parte della squadra dello staff del programma housing della compagnia di san paolo che è un segmento che la compagnia di san paolo un'area un programma che ha dedicato volutamente dal 2006 per affrontare il tema casa proprio perché così scottante così importante non posso giustificare e non ritengo di doverlo fare le scelte politiche delle politiche abitative di questa città non rappresento il comune quindi mi evito diciamo di fare delle gaffe eventuali però quello che noi abbiamo potuto verificare nell'operatività incessante del nostro intervento è che si costruisce la città e si costruisce democrazia offrendo dei percorsi di accesso alle risorse e dei percorsi di accesso alla casa il mio intervento sarà stra breve a questo punto ma è tutto attorno a questa dimensione non si costruisce la città da soli la compagnia di san paolo con il programma housing individuata alla priorità della casa è una serie di tematiche principali costruisce un maggiore accesso alla casa o dei percorsi accessibili e praticabili attraverso la costruzione di forti collaborazioni e forti partnership tra pubblico e privato non nessuno può costruire opportunità abitative da solo questo è ovviamente evidente in ragione delle risorse che sono comunque limitate rispetto al problema che sta dilagando e diventando sempre più importante quello che ci piaceva restituirvi o comunque segnalarvi è che appunto non avevamo intenzione di portare in questa discussione degli come dire degli esempi di interventi strutturali sulla casa ci interessava potervi dare un contributo rispetto alla nostra esperienza attorno all'incrementare della diciamo la carriera abitativa dei giovani e la possibilità di sviluppare autonomia abitativa nei giovani in particolare noi abbiamo potuto sviluppare nel programma ormai nato nel 2006 delle esperienze in proprio cioè elaborandole incubando alcune idee e poi passando al piano realizzativo attraverso collaborazioni con enti del terzo settore molto variegati quindi vi volevo fare accenno alle cose più disparate accedere alla casa è una questione abbastanza complessa noi ci siamo accorti nel 2008 che il panorama presente almeno a livello locale a livello torinese poteva essere arricchito attraverso un progetto un servizio di intermediazione immobiliare sociale che quindi non avesse il carattere del profitto ma avesse la possibilità di accompagnare e far incrociare maggiormente le esigenze di chi cercava casa giovani che cercavano casa studenti o lavoratori quindi con non una grande capacità di spesa e proprietari che dovevano essere in qualche modo rassicurati o facilitati nel avvicinare questo tipo di destinatari con alcune garanzie questo è il progetto stesso piano a questo punto non lo svilupperei perché non c'è modo ma creare una filiera di opportunità di accesso alla casa significa anche intervenire sui servizi che possono favorire l'incontro tra domanda e offerta esistono altre agenzie a carattere sociale questa è quella che noi abbiamo sperimentato con un certo successo e sul campo sta producendo dei buoni risultati e adesso nel territorio cittadino è senza dubbio molto conosciuta un'altra questione il program housing intende quindi sviluppare delle politiche abitative anche per le categorie che sono diciamo per quel segmento di popolazione che non è soltanto come in una condizione di stress abitativo quindi ha poca capacità di spesa ma anche alle spalle dei percorsi complicati dei percorsi complicati per cui insieme alla ricerca di casa c'è una ricerca di affermazione integrazione sociale da questo punto di vista un piccolissimo esempio che non ha senza dubbio la forza nei numeri di essere messo a sistema ma è un'esperienza assolutamente positiva ed è il progetto di casa dell'opportunità è un progetto destinato mi sentite ancora sì ok destinato invece a un nucleo piccolissimi di coabitanti tre giovani provenienti dai circuiti penali o civili quindi ragazzi che hanno un percorso alle spalle pesante e che non avrebbero assolutamente la forza per mettere su casa da soli né dal punto di vista economico non ci starebbero assolutamente con i canoni di mercato da fittarsi casa ma non hanno ancora non hanno neanche insomma le capacità per essere così autonomi nel gestirsi casa questa è un'esperienza che si è resa possibile benché piccola grazie a una incubazione di una buona idea ed è nata insomma realizzata attraverso la collaborazione tra il programma housing che la sostiene dal punto di vista metodologico ed economico e il centro di giustizia minorile del Piemonte Valle d'Aosta che ha messo a disposizione un appartamento confiscato alla mafia in quel di Torino sud insomma di Mirafiori e una cooperativa del terzo settore la cooperativa esserci capace di gestire no questa l'accompagnamento sociale come diceva prima la collega che ha parlato cioè l'accompagnare all'acquisire le competenze utili a viversi bene la casa a vivere al meglio in un condominio senza la guida di un educatore anche l'Italio assolutamente una delle esperienze a nostro avviso di maggiore rilievo di cui come dire che stiamo studiando quindi non è nostra non siamo noi soggetti realizzatori ma speriamo di riuscire a sostenere con tutte le nostre forze che da un certo punto di vista sono anche la possibilità di un sostegno economico a diverse delle sue parti ma anche accompagnandola da un punto di vista valutativo sono le esperienze realizzate dalla città di Torino edilizia residenziale pubblica della coabitazione giovanile solidale che implicano la partecipazione di giovani giovani che vogliano in cambio di un affitto calmierato insediarsi in appartamenti siti in case popolari e che quindi abbiano come dire la capacità la forza la motivazione di fare da buoni vicini di casa con tutto quello che può essere i rischi le difficoltà di essere buoni vicini di casa e accompagnare la ricostruzione talvolta dei legami di quelle comunità di quei contesti che sono contesti molto complessi dove le parole d'ordine sono la solitudine spesso l'isolamento spesso anche dei meccanismi violenti di relazione in tutto ciò il progetto realizzato dal comune di Torino con la collaborazione dell'agenzia territoriale casa ha visto la possibilità di realizzarsi dal 2006 ad oggi in sei contesti diversi della città di Torino è un'esperienza che nasce da un virtuoso matrimonio tra una sensibilità politica della nostra amministrazione e dalla proposta che è arrivata dal basso l'associazione prima che ha chiesto di poter sperimentare questa vita di co-housing a beneficio di contesti complessi come quelli delle case popolari è stata l'associazione ACCOMOS che credo insomma sia stata forte delle proprie esperienze prima di partecipazione attiva riteneva che potesse essere uno strumento di costruzione di cittadinanza e quant'altro ora i soggetti implicati in questa faccenda sono più di uno sono quattro enti del privato sociale cooperativa sinergica cooperativa punto cooperativa liberi tutti io ci tengo a citarli perché sono loro che fanno la differenza in questi spazi accompagnando i ragazzi alcuni dei quali sono presenti in sala là in fondo le ho viste dall'altra parte di su sono loro quelli che contribuiscono alla ricostruzione di questi pezzi di città difficilissimi il nostro è chiaramente un privilegio quello di poterli vedere da vicino nel loro vivere quotidiano con le loro difficoltà e con tutto l'entusiasmo che ci mettono il nostro ruolo è quello davvero privilegiato di offrire una serie di supporti consulenziali e talvolta appunto abbiamo potuto inventarci dei modi per riuscire a sostenere anche le loro esperienze in questo caso mi sembra che davvero il matrimonio sia molto virtuoso tra pubblico privato sociale e spontanea come dire spontaneo desiderio di partecipazione io non mi posso direi addentrare troppo però colgo ancora l'occasione per dire che Torino da questo punto di vista non me ne voglia la collega di Milano è un come dire un laboratorio di esperienze che talvolta facciamo fatica a raccontare e riconoscere ma sono di grandissimo rilievo quindi grazie per questa occasione grazie ancora ai ragazzi che stanno facendo queste cose e mi concludo qui grazie grazie Isabella Brossa che appunto ha dovuto anche resettare il suo intervento in base alle condizioni allora le conclusioni a Stefano Boeri cito una frase dell'intervento di La Fon la festa è finita il gioco si fa duro quindi adesso è finita da tempo la festa quindi io penso che il problema sia quello di di provare a fare uno sforzo che è uno sforzo che dovrebbe fare soprattutto la politica per smetterla di guardare le cose a compartimenti stagni provo a dire cosa cosa penso anche da quello che abbiamo sentito tutti insieme allora prima prima cosa non c'è alcun dubbio che ci sia oggi in Italia un problema di edilizia economica e di edilizia residenziale pubblica che è altro dall'ausine sociale e questa cosa va detta con chiarezza bene perché altrimenti ci confondiamo le idee sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista delle politiche attuali l'edilizia residenziale pubblica è un grande progetto politico anni 60 70 primi anni 80 che come dire ha cercato di dislocare nelle periferie urbane italiane nel periodo in cui questa cosa veniva in forma molto più importante in altri paesi europei come pensata la Francia per citarne uno una serie di grandi complessi residenziali destinati soprattutto all'emergenza abitativa con l'idea di fondo che dovesse essere un'emergenza temporanea residenzialità temporanea è stato un grande progetto politico di investimento dello Stato che ha realizzato in Italia qualche cosa come un milione duecentomila alloggi un valore attualmente patrimoniale intorno ai 230 miliardi di euro oggi questo patrimonio è un patrimonio che ha un grado di degrado sofferenza e morosità spaventosa ci sono settecentomila persone in graduatoria con una media di ingresso hanno intorno alle settecento unità ci sono dati sulla morosità a Milano che è circa il cinquanta per cento del pagamento degli affitti c'è una condizione energivora energivora che vuol dire che gran parte di queste loggie hanno un costo di manutenzione spropositato però c'è un problema perché quel tipo di edilizia rispondeva a una domanda di emergenza abitativa che non è finita è tutt'altro è cresciuta e questo lo dicono le graduatorie lo dicono i fenomeni di cui parlerò magari un attimo alla fine di baraccopoli slam bidonville che sono presenti anche intorno alle città italiane o dentro le città italiane quindi quel tema lì c'è non è che possiamo dimenticarcelo è un tema fondamentale che alcuni paesi europei hanno cercato di risolvere quello del degrado di questo patrimonio utile hanno cercato di risolvere in Francia hanno fatto una grande politica sull'energia accostando quella dell'edilizia sociale cioè hanno pensato che intervenendo attraverso facciate coibentanti di maggior efficienza che davano anche uno spazio aggiuntivo agli affittuari si poteva intervenire sul patrimonio pubblico aumentando nel valore rispondendo a una delle grandi questioni che è il costo eccessivo dal punto di vista dell'energia e del consumo in altri paesi hanno continuato a sviluppare edilizia pubblica noi abbiamo smesso ormai da anni farlo e non c'è oggi una politica integrata seria sul recupero di questi grandi edifici e questo è un problema perché l'audizione sociale non risponde a questa cosa l'audizione sociale non risponde all'emergenza abitativa l'audizione sociale è un'altra cosa fondamentale perché risponde a quella fascia di povertà o certo medio impoverito che è fatto dalle giovani coppie dalle famiglie emigrate da chi ha un lavoro precario che da un lato spesso ha un reddito superiore di circa 16.000 euro che sono il tetto dell'edilizia dell'edilizia repubblica ma certo che non accederà mai al mercato questa fascia si è enormemente dilatata negli ultimi anni per questo l'audizione sociale è importante certo è una forma come dire è un'impresa è un privato sociale che ha una reddittività intorno al 4-5% quindi non è che non ci sia una reddittività ma che dà spazio abitazioni spesso sperimentando forme molto interessanti di accompagnamento all'abitare che tra l'altro sarebbe interessante portare in alcuni casi il successo dentro nell'edilizia sociale tradizionale e che sono innovative e quindi è una parte fondamentale nei paesi del nord dove è nata l'audizione sociale queste sono pratiche diffuse per cui non lo so faccio un esempio quando si sente dire che finalmente si cerca di risolvere il problema dell'amorosità non solamente con gli sgomberi che guardate bene alcuni casi quando si tratta di malavita organizzata come nella maggior parte dei casi sono necessari perché oggi abbiamo una situazione folle di legalità diffusa inaccettabile ma quando si cerca di risolvere il problema dell'amorosità chiedendo agli inquilini di intervenire col proprio tempo di lavoro si dà una forma di risposta a un problema usando un'esperienza che è nata nell'audizione sociale che si riporta all'edilizia popolare sono due campi diversi però tutti e due hanno la loro utilità tutti e due dovrebbero essere sviluppati tutti e due sono pochissimo sviluppati in Italia poi c'è il terzo tema che è quello dell'edilizia libero mercato e qui abbiamo un problema se volete paradossale perché abbiamo uno stock abitativo che è per larghissima parte non usato dismesso vuoto sfitto e venduto Torino Milano Roma Napoli sono dati impressionanti e cosa succede cosa sono grandi proprietari ma no sono una moltitudine di piccoli proprietari che non si fida più che ha paura che preferisce l'appartamento sfitto o non venderlo perché non si fida del libero mercato non si fida dell'equo cannone non si fida delle forme di gestione allora questa grande questione dell'abitare ricordando sempre come dice il titolo di una delle cooperative proprietari di divisa che ha lavorato in maniera più straordinaria secondo me in Italia che è Darcasa che da 30 anni lavora per Darcasa agli immigrati le città non sono fatte di abitazioni sono fatte di abitanti e proprio perché sono fatte di abitanti il nostro deve essere uno sguardo capace di cogliere in tutto in termini le sfaccettature di questa cosa non di pensare che si lavora solo nell'audio sociale dimenticandosi che c'è un'emergenza abitativa o che si pensa di ideologizzare le brezze abitativa dimenticandoci che ci sono migliaia e migliaia di famiglie che stanno in mezzo tra il mercato e l'edilizia sociale oppure ripeto che non si guardi al fatto che bisogna trovare delle politiche per recuperare questi spazi sfitti invenduti dico anche gli uffici dico anche gli uffici che sono un patrimonio unico privato frammentato inutilizzato inutilizzabile perché la parte di loro hanno una dimensione che è occolutamente incongua rispetto agli usi attuali quindi la vera grande sfida è una politica sulla casa che in fondo può piacere o non piacere ma quello che è stato fatto negli ultimi mesi è di mettere al centro della politica sul lavoro più il lavoratore che il posto di lavoro può piacere o non piacere e qui penso che andrebbe fatto lo stesso sulla casa mettere al centro l'abitante invece che l'abitazione e questa è una grande sfida per tutti noi grazie allora io concluderei anche perché abbiamo la necessità di liberare la sala per l'incontro successivo ringrazio ovviamente i partecipanti per la sensibilità e la competenza con cui hanno trattato il tema mi dispiace anche che ci sia stata una rivendicazione è